L'associazione sportiva dilettantistica Circolo Tennis dopo lavoro ferroviario di Sulmona ha promosso ed organizzato il torneo Città di Sulmona, torneo nazionale di tennis in terza e quarta categoria singolare maschile. Nell'accogliente struttura in via Zappannotti a Sulmona si sono cimentati tennisti nazionali e regionali alla presenza di appassionati ed atleti locali. Il torneo è stato vinto da Donatello Volpe in due set, al secondo posto si è piazzato Giancarlo Barone. Su un'interessante gara abbiamo ascoltato il giudice arbitro Gabriele Di Girolamo. Questo torneo si trova in questo momento alla decima edizione, abbiamo iniziato come si dice in sordina con tornei non classificati di quarta categoria e già da qualche anno abbiamo ampliato l'organizzazione di questo torneo anche alla terza categoria. L'intenzione è sempre quella di andare avanti e quindi di vedere se è possibile fare un torneo open, quindi in maniera tale che possano anche partecipare al torneo anche giocatori di classifica 2. Stasera si sta svolgendo la finale di questo torneo. Sono in campo Fabio Barone del match point di Pescara e Donatello Volpe che già aveva vinto in passato questo torneo. Sono dei campioni diciamo? Diciamo di sì perché sono 3-2 quindi è una classifica che per quanto riguarda la classifica del torneo è a un livello abbastanza superiore.